Salve a tutti, in questo video parliamo del problema dell'avvio lento di Windows 10, cosa possiamo fare per risolvere? Allora, partiamo dalle cose basilari, dalle cose più probabili, fino ad andare ad altri tipi di risoluzioni. Innanzitutto, per la mia esperienza, ci sono persone che pensano che il loro computer sia lento, che il loro Windows sia lento, invece non lo è affatto. Magari hanno visto un amico, una persona che ha un SSD, che ha un avvio molto molto rapido, loro hanno un hard disk, e pensano di avere un problema. Mi è capitato una persona che mi diceva, puoi fare qualcosa per accelerare il mio computer? Era un computer molto molto vecchio, ma veramente andava parecchio bene, parecchio veloce, quindi può essere anche una cosa soggettiva. Quindi intanto c'è da capire se il vostro è veramente un rallentamento, oppure è semplicemente il vostro computer che è vecchio, il processore è vecchio, quindi un computer poco potente. E comunque, anche in questo caso, si può fare qualcosa seguendo questi passi, per migliorare la situazione. Allora, partiamo subito. La prima cosa, che è anche la più probabile, sono i programmi all'avvio. Windows 10 carica una serie di programmi, oltre al sistema operativo, che possono rallentare l'avvio stesso. Come si fa a vedere quali programmi si stanno avviando? In automatico. Allora, andate qua con il mouse alla barra delle applicazioni qua in basso, tasto destro, gestione attività. Andiamo sotto avvio, ed esaminiamo le nostre applicazioni. Allora, possono essere abilitate o disabilitate, e qua c'è l'impatto di avvio. Un impatto basso tenderà ad impattare poco, un impatto alto vuol dire che, insomma, va a rallentare, in teoria, parecchio. Però dipende anche dal vostro computer, ad esempio io ho un SSD molto veloce, il mio avvio è buono, e quindi anche se qua mi dice Razer Synapse 3, che è un programma della tastiera, impatto alto, non mi interessa, lo lascio abilitato perché è un programmino della tastiera. Questo sinceramente lo sto vedendo adesso per la prima volta, si chiama program, non mi sembra una cosa molto sana, tra virgolette, quindi vado anche a disabilitarlo per ora. Quindi la prima cosa da fare è questo, andare a disabilitare, quindi tasto destro, disabilita, tutte quelle applicazioni che non ci servono. Che cos'è che ci serve? Ci serve all'avvio, probabilmente, il programmino della scheda video, il programmino dell'antivirus, ovviamente, l'antivirus deve avviarsi, il resto, sinceramente, potreste disabilitarlo, anche perché se sono classici programmi dei launcher, dei videogiochi, o in questo caso vedete Twitch, Snagit, il programma chiuso per registrare lo schermo, il browser stesso, il Creative Cloud che va a vedere se ci sono aggiornamenti di Adobe, sono tutte cose che non necessitano alla fine di partire all'avvio, li posso aprire io in qualsiasi momento. Quindi andate a disabilitare tranquillamente questi tipi di programmi, tanto comunque all'avvio potrete tornare qui e riabilitarli, e lasciate l'antivirus, il programmino della vostra scheda video, un video AMD, quello può essere comodo, ed eventualmente qualche programma, non lo so, per l'SSD, per qualcosa che fa parte del vostro computer, che tiene d'occhio un monitor di sistema, di qualcosa, quello potrebbe essere utile, quindi lasciate quello. Nel mio caso lascio anche questo, che è della scheda audio, ed ecco fatto. Quindi la prima cosa da fare è ridurre le applicazioni che si avviano. Poi fate un riavvio di sistema e vedete se già la situazione è nettamente migliorata. Se così non fosse, andiamo avanti e facciamo un po' di pulizia del computer. Infatti, il problema potrebbe essere anche causato da alcuni virus, quindi fate la scansione antivirus con il vostro antivirus prima di tutto, e poi io utilizzo altri due programmini molto utili, che sono ADWCleaner, questo qua, ADWCleaner, questo qua, sì. Quindi facciamo una scansione con questo, è un programma gratuito, ADWCleaner, e adesso è di Malwarebytes. Poi facciamo anche una scansione con Malwarebytes Antimalware. Questi sono i miei due programmini gratuiti preferiti. Per fare pulizia di robaccia. Ecco qua, Malwarebytes, la mia è la versione free. Anche qui fate una scansione, quindi pulite con questo e con ADWCleaner. Altra cosa che potete fare è andare ad utilizzare un programma che vi va un po' a ripulire il sistema e il registro. Io consiglio Ccleaner, questo, eccolo qua, Ccleaner, va benissimo la versione free. Andiamo in registro, facciamo trova problemi, e andiamo a rimuovere, o a riparare anzi, tutto quello che trova. Quindi lasciamo che lui faccia la scansione, fino al 100%. Ecco fatto. E facciamo ripara problemi selezionati. Vuoi eseguire il backup del registro? Questo gli diciamo di sì. Serve solamente in casi estremi di problemi, nel caso ci fosse da ripristinare il backup. Quindi lo vado a salvare qua, giusto per sicurezza, e poi faccio ripara selezionati. Ecco fatto. Non è mai successo a me di dover ripristinare un backup. Non è mai successo, però ogni tanto continuo a farlo. Chiudi. Poi andiamo in pulizia avanzata, Windows, e svuotiamo tutta questa roba qui. Il cestino, possibilmente, se no lascio testare. I file temporanei, appunti, dump di memoria, frammenti, file di chk, dsk, file log di Windows. Ok. Questi sono facoltativi per questa cosa dell'avvio, perché vanno a ripulire un po' Internet Explorer ed Edge. Quindi faccio analizza. Ed ecco qua. Quindi mi va a togliere un bel po' di file temporanei. Quindi andiamo a ripulire un po' il disco fisso. E poi un po' di cache a via pulizia. Quindi assicuriamoci che comunque il nostro SSD o il nostro hard disk non sia messo sul rosso come questo, ecco. Quello di sistema deve avere comunque un pochino di spazio libero, perché questo potrebbe andare ad impattare anche il tempo di avvio. Fatto questo, se ancora non avete risolto niente di niente, provate a disabilitare l'avvio rapido, perché ad alcuni ha dato questo problema. Dove si trova? Allora, cerchiamo qua in basso pannello di controllo. Eccolo qua. Andiamo in basso su opzioni risparmio energia. Se non lo trovate, se non avete la mia disposizione, cliccate qua su visualizza per icone grandi. Opzioni risparmio energia. Andiamo su specifica comportamento pulsanti di alimentazione. Clicchiamo qua su modifica le impostazioni attualmente non disponibili. E andiamo a disattivare questa opzione. Facciamo salva cambiamenti e riavviamo il computer. Se questo non vi aiuta per niente, consiglio di ritornare qui e di riattivarlo, perché questa opzione di base andrebbe lasciata attivata. Quindi vi chiedo di farlo solamente per vedere se questo è il problema. Quindi queste erano le cose principali di un potenziale problema di avvio lento. Più che altro sono i programmi installati all'avvio. La cosa finale da fare per risolvere il problema sarebbe formattare tutto. Quindi ripristinare il computer. Gli si dà una bella pulita. Quindi ad avvio pulito c'è poca roba nel registro. Questo quando avevo un hard disk mi faceva tantissimo, tantissimo. La formattazione del pistone di sistema andava a velocizzare il computer di parecchio. Da quando ho messo l'SSD questo problema non c'è più. Infatti io consiglio comunque di utilizzare un SSD con sopra Windows, perché va a velocizzare tantissimo l'avvio di sistema. E non solo quello, anche le applicazioni. Spero di essere stato utile, di aver risolto il vostro problema. E ci vediamo al prossimo video.